Don Federico si festeggiano i 25 anni dall'inaugurazione della nuova chiesa di Rosciano dal lontano 8 dicembre 1997, tanti gli appuntamenti dedicati già dal mese scorso che si concluderanno questa domenica. Che cosa ci sarà in programma? Quello del 4 dicembre è il momento conclusivo di una serie di celebrazioni che si sono svolte durante tutto il mese passato, dove abbiamo voluto ricordare questo evento che è stato l'8 dicembre del 1997 e abbiamo vissuto momenti di ricordo, di memoria, con gratitudine, abbiamo cercato di incontrare anche le persone, i preti che sono passati qui in questi anni, hanno avuto un momento anche per ritrovarci e domenica prossima, il 4 dicembre, ecco il momento conclusivo che vedrà anche la presenza del Vescovo nostro che celebrerà la messa alle ore 16 del pomeriggio a cui poi seguirà un momento conviviale di festa per concludere in fraternità anche questo evento. Importante per le nostre comunità parrocchiali sia di Rosciano che di Centinarola perché ci ha permesso di unirci in un momento importante, non soltanto per un ricordo di qualcosa del passato ma perché con gratitudine portiamo avanti quello che ci è trasmesso ma che ci serve per l'oggi.